con effetti speciali e va bene va bene dai vado ascolterei per ore questa bellissima sigla buonasera a tutti come va come va bentornati buonasera a tutti a che puntata siamo arrivati che ormai ho perso il conto 5 e la quinta questa la quarta quinta quinta per all'anagrafe quarta invece perché una non sappiamo bene che fine abbia fatto è i poteri forti è finita nell'area 51 oppure in mezzo a quell'area dove finiscono i calzini spaiati sai pente gli angolo delle bermude va bene benvenuti a tutti benvenuti a tutti sono già sono già collegati in ben 17 salut a tutti guarda faccio presto ciao giada ciao mirco ciao alberto ciao luca ciao marco ciao letizia e michele ecco ciao a tutti ben collegati a quelli che hanno già commentato allora mi presento sono carletto fx cantante di gen boy nella veste di nerd e commentatore assieme a voi sera puntatona puntatone che parleremo di giochi da tavolo in particolare di alcuni giochi da tavolo e dall'altra parte del mondo non sappiamo bene dove c'è il nostro inviato specialissimo dennis furrini ciao denis ciao ragazzi stasera mi trovo nell'entroterra in un posto un paese che si si chiama roccia malaticcia e qua di dietro si può vedere com'è abbarmicata questa città ho capito ho capito resta lì ti sariamo subito da te per sapere perché sei lì un saluto anche al nostro opinionista chef ludico angelo minestrini grazie grazie carletto soprattutto un saluto a tutti gli amici ragliani ciao ragliani ciao saluto di ragliani mi dimentico sempre questo neologismo che abbiamo coniato per per definire i nostri fans vedo che dietro hai un bandierone proprio con è nitidissimo quel bandierone non c'è avendo una bandiera americana dietro di te un po di spirito visto che l'argomento della serata qual è qual è dicelo l'argomento della serata è americanati contro germanisti ovvero appassionati del gioco german contro gli appassionati del gioco america e si può scatenare veramente una grande guerra intorno a questo argomento per cui vediamo quello che succede molto bene molto bene allora chi è sta banda di boomer dicono bellissimo manuel bellucci è un grande fan di gen boy pensa che io ce l'ho memorizzato su sul cellulare come emanuele bellucci gen boy quindi è come se fosse un membro del gruppo alla fine sì se il giorno che passerò miglior vita oppure appenderò il microfono al chiodo lui potrebbe tranquillamente prendere il mio posto perché sa tutte le canzoni memorie anzi forse le sa meglio di me ed è pronto a deridermi ogni volta che sbaglio ma non siamo qui per parlare dei gen boy e delle cagate che abbiamo fatto nella nostra carriera bensì punto di giochi da tavolo denis cosa significa giochi da tavolo america e german allora io parto con il dire che da piccolino sono stato segnato proprio svezzato con un video che tra poco dirò a carletto di mandalo in sovraimpressione dove un americanato ha sbeffezzato diversi germanisti mi è rimasto impresso io sono cresciuto come americanato e quindi oggi andrò per questo paese a chiedere ai passanti se mi dicono un numero o una lettera a qualcosa se dicono pari girerò a destra se dicono dispari girerò a sinistra proprio davvero american e casualmente vedremo dove andrò a finire manda pure il video che fa vedere il mio svezzamento va bene senza spiegare cos'è un american quindi così ma senza stati chiari l'abbiamo già spiegato direi boh si insomma magari dopo ce lo spiegherà meglio angelo ma andiamo a a vedere appunto ho un po paura questo il video che ha turbato dennis stiamo tutti spaventati immagini inquietanti il regista deve essere quello del ladro di galline della settimana scorta bello questo effetto che aveva messo dalla telecamera un po retro come se non fosse un video girato tanto tempo fa ancora non si capisce la differenza fra america di german però piano vero ci arriviamo la campagna deve essere avere creato è quello siamo in texas secondo me da giudicare dalla vegetazione questo è uno morto del fermato di cipolla a vedi vedi è uno spin off o un un sequel non so finito così mi è bastato per convertirmi direttamente all'americana che era uno spin off che sono i fall out the out live qualcosa del genere signore mi scusi scusi mi dica un numero per favore qualsiasi 103 103 quindi devo girare a sinistra perfetto io andrò avanti così adesso fai anche 118 vai vai dritto lì occhio non fatichiamo al 113 grande denis vabbè insomma praticamente questo è stato il tuo svezzamento purtroppo questo video mi ha segnato la vita intera quindi guarda ce l'ha segnata pure noi in questo momento figurati non solo voglia di sei passato all'american giusto con questo video capito bene perché l'americanato girava e sbeffeggiava i germanisti morti ok ok ci voleva un po per entrare nel mood adesso che me l'hai fatto presente questo messaggio denis silenzi scendi non lo so mirco luppi vabbè allora si riferisce a un'altra live a non lo so roberto maselli ma cosa sta succedendo fai sempre la stessa domanda e noi rispondiamo sempre come al solito non lo sappiamo nemmeno noi a raglio angelo numero non era nessuno io sono certo che tipo una giada o un manuele non sanno cosa voglio dire un german o un o un american quando è che si parla di american german nei giochi ma beh diciamo che il gioco german essenzialmente è diciamo un gioco dove è pregnante di meccaniche dove praticamente la esiste quasi solo esclusivamente la pianificazione e dove la componente aleatoria ovvero quella del dado e del bush di cune è completamente ridotta praticamente a zero o del tutto assente per cui diciamo sul gioco german vedremo il piazzamento lavoratori per organizzarli per ottenere risorse il piazzamento tessere il commercio sia col gioco che con gli altri giocatori le aste diciamo è un gioco che in realtà rimane un pochino più più freddo rispetto al gioco american ma dove bisogna ottimizzare al massimo tutto quello che si fa di strategia all'interno del gioco ecco questo diciamo un po' il gioco german e dove comunque l'ambientazione passa in realtà molto in secondo piano anche in terzo piano e a volte anche in quarto piano un piano lungo questo è un po' il gioco german per quello come la vedo io diciamo sento un po' di astio nelle tue parole insomma mi sembra di capire che di accento neanche un po l'accento nella mer che non so neanche un wuster coi krauti cucini tu niente proprio guarda qui c'è una saccocciata dei danni pronta figurati no no poi ho avuto brutte esperienze con i giochi german diciamo per cui allora cerco di tenermeli abbastanza a distanza poi specialmente con uno in particolare che poi molti sanno mi ce prendono sempre in giro perché chi è che ho vabbè io no non è che lo odio attenzione non odio nulla però ho trovato che se uno dei giochi più noiosi che abbiamo fatto in tutta la mia vita e qui scatenerò l'inferno e già lo vedo ti puoi dire un numero signore 45 45 i miei anni i miei anni non era morto che parla il gioco secondo me che mi ha travolto e mi ha fatto proprio passare dalla parte degli americani ma è proprio agricola agricola ragazzi capisco capisco cioè è pieno dei cubetti di legno cioè no no però ti stanno dando dello stupido è un po' perché guarda luca mal dice german praticamente un gioco di intelligenza è logica di conseguenza mi viene da dire che l'america è ma un po' per scemi sì ma infatti ci gioco io per cui chiaramente ritorna tutto no no ma chiaramente vabbè il gioco german guardate la roccia malaticcia sicuramente sicuramente ti mette alla prova dal punto di vista dell'ingegno della capacità di gestire le partite anche a lungo termine o a breve termine io ne allungo ne a breve perché poi manco l'apro le scatole nel frattempo si è collegato anche Gianluca Manighetti che dice buonasera ciao buonasera anche a te Gianluca ascolta Denis ma dove si trova Rocca Malaticcia? che non ho capito ancora provincia di? scusi signore dove si trova questo poese? la Rocca Malaticcia mi puoi dire un numero per favore? il numero? 23 grazie no non c'è gli abitanti del luogo sparano solo numeri raggiungerai con questa sorta di randomizzazione dei numeri un luogo poi sempre finirà anche Rocca Malaticcia dopo che abbiamo finito 40 minuti di live vediamo dove arrivo c'erano 4 case Rocca Malaticcia poi alla fine da qualche parte arrivi per forza va bene ascolta ma Angelo criticare così tanti giochi german non temi che di avere delle ritorsioni contro non solo il pubblico magari ma anche dagli autori stessi non so ma io cerco di essere sempre abbastanza parziale però obiettivamente cioè ci sono giochi german e giochi german insomma sicuramente Agricola mi ha lasciato un segno molto molto negativo e di conseguenza quello per me però perché mi è arrivata una mail indirizzata a te non so con un video dentro ti interessa? in che senso? ci sono non so forse già hai affermato qualcosa e sai il mondo dei giochi da tavolo è piccolo e basta che uno faccia una scoreggia tutti sentono l'odore ah ok non lo so io spero di non aver stuzzicato spero di non aver stuzzicato nessuno l'importante insomma però non so chiede di mandarlo in onda che faccio? lo mandi in onda? manda poi eventualmente risponderò di conseguenza vabbè è in tedesco però ci sono i sottotitoli va bene? addirittura in tedesco eh oh però tanto bene o male tutti lo sanno in tedesco però ci sono i sottotitoli va bene allora io diciamo che mi dissocio dalle tue affermazioni Agricola io non l'ho mai giocato però lo guarderei volentieri con tutti gli animaletti è simpatico con i bambini anche secondo me è un gioco che piace anche ai bambini ma vediamo penso che ci sia proprio quello che hai nominato prima vediamo io che è stato molto veloce, perché avevamo già fatto due mesi dopo il primo errore che avevamo già fatto, che sarebbe in un'errempimento in un'errempimento in un'errempimento. Abbiamo avuto un'errempimento molto tempo con questo spielo, ma anche due mesi dopo il primo errore è stato un piccolo errore. Quindi abbiamo fatto un'errempimento molto bene, perché abbiamo avuto un'errempimento un'errempimento, perché non c'è un'errempimento. stai rasente al muro perché ricevere una minaccia da rosenberg insomma non era tutti i giorni ho paura che ci tolgono anche questa live qua se ne andiamo a cercare però ragazzi secondo me sì ora mi scusi mi può dire un numero no vabbè niente 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 era un fake boh è ferma va bene va bene ragazzi guardiamo cosa intanto c'è uno che fa una battuta una battuta lo chef cortese che è stato un po scortese in questo caso comunque allora sono arrivato dove sei arrivato in un luogo sono arrivati un luogo dove sono due signore posso parlare con voi sono a sedere e noi stiamo facendo delle interviste sui giochi american e german voi quali prediligete america ovvio germa america ma dai smetti lato meno germanista f finta di essere intelligente ma si è stupido americano per gli stupidi no no rimbambito perché devi usare i dati giusti perché sennò altro che culo non dalla testa nel gioco come te che non gli dà le trocate quando giochi americani va bene vi ringrazio per questa gentile scenetta che abbiamo preparato oggi pomeriggio grazie mille a tutti e due ma come sveli così va bene comunque c'è un messaggio per te denis invece che chiedere dei numeri dice un gioco americano germa che ti piacciono e spiegaci il perché oh bravo vai ma denis non è così dolente tocchiamo dei punti dolenti qua beh posso dire che il gioco che mi viene in mente per primo che unisce sia il germanista che l'americanato è wizard race e vado a promuovere la chilo dice che tra poco uscirà in scala mondiale con tante copie di questo gioco vabbè va sempre un po di parte così dai e tra l'altro che stai facendo anche pubblicità insomma non so tanto viene oscurata questa live ormai con quello che hai detto ecco la responsabilità di cari su di me ovvio ma dai allora facciamo il marchettone wizard race un gioco della chilo dice che stiamo prototipando da un po di tempo già un anno e presto chissà che non veda la luce e ma cos'è la chilo dice è la ditta immaginaria mia di denis potete vedere anche qualche video su youtube ce ne abbiamo già un sacco divertentissimi andate a vedere a cercare chilo dice giochi da tavolo fine ok l'ho fatto se vuoi fare anche pubblicità angelo al tuo canale lo chef ludico sempre interessantissimo unboxing tutorial noccioline patatine e anche ricette di cucina infatti ma allora mi può dire un numero un numero grazie va bene allora comunque anch'io ho una cartuccia da giocare perché volevo comunque dire anche la mia su german e america vada vada è chiaro che io il lancio del dado nei giochi da tavolo l'ho sempre detto è la cosa che mi piace di più quindi il fascino che ha buttare un dado senza sapere le conseguenze è la cosa più bella e credo che una sana via di mezzo possa piacere però insomma apprezzo anche che ci siano proprio quelli che negano il german puro come quelli che detestano sono aperto a tutti però però dai Dennis è scollegato con un bastarnuto ha soffiato al naso ha soffiato talmente forte che si è scollegato quindi io sono per la sana via di mezzo ok una fortuna un po' mitigata un po' vabbè adesso però visto che ci stai ci devi dire anche uno dei tuoi giochi american o via di mezzo preferiti ci devo pensare ci devo pensare perché non vorrei cioè è un po' come la radio no cioè tu che musica ascolti io ti posso mi ascolto sia dallo zecchino d'oro che i queen mi piace anche ascoltare a volte la musica classica e che non c'entrano niente l'uno con l'altro quindi dipende dipende dalle giornate dipende dagli stati d'umore esatto esatto quindi ogni tanto ci sta l'american è tornato Dennis aspetta che lo rifaccio rivedere ecco Dennis che è successo? scusi mi scusi mi scusi no vabbè c'era io ero rimasto qua ecco ecco perfetto avevi preso conto al cellulare e scollegato tutto molto facile Luca Bolognesi chiede la pesca della carta probabilità è imprevista in che categoria mettiamo? è americanissimo 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 dottore comunque dicevo al di là dei miei giochi preferiti che si può andare da Everdell a Dixit quindi non ce n'è uno in particolare mi sono informato perché questa da dove nasce questo astio fra i due generi e quindi ho fatto una piccola ricerca appunto perché volevo essere pronto questa sera e ho trovato un documento storico che fa vedere praticamente già i problemi che c'erano all'inizio con appunto fra german e american ho trovato questo video che vi voglio far vedere non è in tedesco stranamente è in italiano vediamolo questo è nel gioco che hanno inventato gli americani da cui possiamo copiare è un competitive si lanciano dadi in questa maniera e poi successivamente ok fa tanti passi quanto il valore del dadi ecco ice fai try eccetera eccetera che succede se un giocatore fa 12 e l'altro solo 2 beh ecco niente uno va avanti e l'altro resta l'altro resta indietro perché sfigate quindi voi autori mi state dicendo che io vinco solamente se ho un gran culen e voi autori volete copiare sta merda dove Kaiser piace i lavoratori dove sono le risorse ma minchia un cazzo di draft almeno la sfiga è caput la sfiga non deve esistere questo gioco piace tanto ai bambini le assicuro che se ne è forte dei bambini io voglio controlli capito perché sono una persona posata non voglio la frustrazione di una pesca sbagliata o di un lancio di merda ecco fantastico avete capito già gli albori c'era già questo astio ecco da dove è nato vedi adesso che lo sappiamo ho una domanda per te chef dov'è? l'ho persa ecco voglio sapere il tuo German preferito Zemiglio grande Zemiglio German preferito allora chiaramente adesso finché se ride se scherza però ovviamente anche a me piace qualche German l'importante è che non sia agricola che non torni Rosenberg ci sono dei German che hanno delle ambientazioni molto molto profonde diciamo per cui vanno a rispecchiare un po' quella che è il mio gusto da giocatore American e uno di questi tipo posso dire uno è Outlip che è un gioco German ma con ambientazione post apocalittica per cui è uno di quelli che preferisco ma ce ne sono anche altri attenzione però io credo che io guardo sempre molto l'ambientazione del gioco per cui ho notato che il German tipo vabbè Agricola Stonehenge eccetera eccetera hanno a me hanno delle ambientazioni che non mi acchiappano particolarmente però obiettivamente si trovano dei giochi che comunque o fantascienza o comunque che vanno a richiamare quell'ambientazione che riprende un po' dall'America e poi lì devo dire che me li gioco volentieri mi piacciono nonostante non c'è il dado nonostante ci sono tonnellate dei cubetti e devo dire che me li gioco volentieri Simone Fantuzzi propone Himalaya che è l'incrocio ideale tra German e American da non confondere con un gioco ferrarese che si chiama I-Maiala I-Maiala siete d'accordo? Io a Malaya non ci ho mai giocato no sono un po' vai vai Dennis allora Himalaya è il mio gioco preferito per sei giocatori in sei giocatori dà veramente il massimo del divertimento e e lo posso consigliare chiunque l'ho fatto provare al pub in sei giocatori ripeto si è sempre divertito tanto io ho provato anche l'espansione unisce tantissime cose l'hai provato con l'espansione si chiama K2 lo metti di fianco e gli scale tutti e due allora dopo questa cosa simpaticissima di Carletto volevo dire che io sono un po' stanco di girare in questo paese sì allora mi è tornato alla mente che tempo fa feci un'intervista a un germanista VIP per smentire un po' tutta questa diceria che c'è di fondo ma in realtà mi sto avvicinando in questi minuti a a questa filosofia di pensiero quindi mi sa che mi trasformerò in un germanista fai pure vedere il video della mia intervista ah ok va bene va bene allora aspetta che lo cerco perché l'avevo cancellato pensavo fosse una cagata arriva salve a tutti salve a tutti siamo qui a Caltanissetta davanti al palazzo dei cocomeri e andremo a smentire che un VIP se la tira e fa lo snob davanti a tutti quanti abbiamo l'appuntamento con il professor Catrame che andremo immediatamente a intervistare venite ci dirigiamo all'interno del palazzo dei cocomeri stiamo salendo all'interno del palazzo per recarci all'appuntamento con il professor Catrame che ha gentilmente accettato la nostra richiesta per appunto smentire queste dicerie ma perché parli come un telegrafo? ecco signorina mi scusi abbiamo l'appuntamento con il professor Catrame da che parte lo posso trovare? di là? ma a parte che può anche rispondermi comunque va bene se il suo atteggiamento è questo grazie ma andiamo che maleducazione c'è più rispetto mi scusi è permesso? salve posso sedermi ero passato per intervistarla su Accordo ok io mi siedo e le farò qualche domanda ok grazie mi dica egregio professor Catrame lei è un VIP? ragazzi qui alta scuola di regia e fate fare lo snob? ma posso farle qualche altra domanda? addirittura ok ok ho capito ma ci possiamo scambiare i panni? abbiamo perso tre o quattro persone che si erano collegate Dennis spiegaci questa intervista ah eccola la coperta fa molto fa molto german però sta coperta attenzione fa molto scottese anche un po' vabbè non so se c'è gioco scottese vabbè Dennis è criptico veramente c'è bisogna bisogna è un po' il truffo della situazione vado a leggere vado a leggere un messaggio molto molto lungo sempre di bolognesi il primo rudimentale gioco da tavolo che conosciamo fa parte ancora oggi di numerosi set di gioco che tutti noi usiamo si tratta dei dadi pensate che una serie di 49 piccole pietre dipinte a intaglio sono state trovate nel tumulo di Bajur Hojuk del sudeste della Turchia e risalgono ben 5.000 anni fa quindi i dadi sono kurtis molto bene però se uno vuole andare ancora più nella città fantastica c'erano anche gli scatti che sono antichi ed è un german puro lo scacco anche se sono nati in India se non erro quante belle allora qui chiedono agricolo o caverna io preferisco le havre quindi si poi una domanda interessante anche se forse ne abbiamo già parlato riparlato secondo voi come si potrebbe far avvicinare il grande pubblico ai giochi da tavola questa è è la domanda che la domandona che tutti i giocatori si fanno e a volte non ci provano neanche quindi è una domanda che andrebbe si vorrebbe solo una puntata solo per questo argomento quindi Emanuele si può si può ma ci vorrebbero tante tante persone che investono sulla sulla pubblicità sul far avere nei tavoli più comuni commerciali anche i giochi moderni e non solo i soliti monopoli risico pluedo ecc considera che lo dico Emanuele il mondo dei giochi da tavolo si è trasformato in questi ultimi dieci anni in una maniera pazzesca prima uscivano pochissimi giochi al mese adesso ne escono tantissimi ne escono centinaia ogni mese per cui c'è l'imbarazzo della scelta non tutti belli non tutti german non tutti american però ne escono veramente tantissimi per cui diciamo che c'è c'è l'imbarazzo della scelta per cui non è nemmeno una volta poi c'è molto consumismo adesso sul gioco da tavolo non so se ci avete fatto caso chi è che giocatore penso che lo sa perfettamente prendi in gioco ci fanno una partita poi subito un altro gioco una partita poi subito un altro gioco sono sempre stesse persone Angelo che vanno a caccia di giochi lo provano poi lo rivendono lo lasciano lì invece qui c'è Luca Miselli che dice per far tornare il gioco da tavolo è sufficiente un lunghissimo blackout un blackout o un lockdown poi che c'è Sennet utilizzava una specie di dadi due listelle in legno con due facce chi è Sennet Alessandro mi sento ignorante partendo da mettere dei bambini e torno a tavolo non è facile sì sì anche questa vi abbiamo trattato nella seconda puntata la puntata la famosa puntata che si è stata oscurata sì 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 è vero i ragazzi di passare dai videogiochi a qualche volta ai giochi da tavolo vorrei fare uno scoop perché giustamente c'è la bandiera dietro perché allora abbiamo parlato tanto dei giochi German però in realtà non abbiamo parlato poi del gioco American in cui abbiamo detto tutte le specifiche del gioco German c'è Dennis che si sta addormentando non si sa quello che è vivo pensavo fosse tipo Laura Palmer avvolta nel cielo fa come se era un played sto cercando di fare il VIP un po' visto che mi sono trasformato in germanista ho questa nuova filosofia di pensiero adesso farò un po' il VIP visto che gli Americanati sì gli Americanati sono considerati veri nerd mentre i germanisti sono considerati VIP in questo mondo quindi mi voglio un po' cambiare dopo 40 anni di vita voglio provare questa nuova strada ah sì quindi gli American sono un po' spigatelli diciamo così sì fate schifo entrambi voi due ok io sono così quella via di mezzo un po' come un gay capito anzi un bisexy in questo caso mi piacciono sia gli uomini che le donne c'era una punta di frecciatina di Dennis però vabbè diciamo ragazzi che io vi dico la verità ho giocato tantissimo inizialmente con giochi german nel senso con gli amici miei nella mia comitiva di Perugia ci giocava tanto a german poi ho scoperto il gioco dietro di me che è Last Night on Earth gioco American Trash sui zombie tanti anni fa e devo dire che lì mi è sempre rivoluzionato il modo di vedere il gioco lì ho cominciato a scoprire i giochi con un'ambientazione più forte un'ambientazione maggiore un ritorno un po' anche al film perché come dice c'è dietro anche il gioco di grosso guaglia Chinatown per cui secondo me sono giochi che ti fanno calare in quelle ambientazioni in maniera talmente profonda che poi alla fine il lancio del dado la sfiga la carta che ti viene fortuna sfortuna si va un po' a perdere all'interno del gioco perché quello che conta molto è l'ambientazione per cui quello il tema del gioco secondo me la fa veramente la padrone e devi sapere accettare come in un film l'evento che avviene per cui tiri il dado mentre stai ammazzamostro e fai uro col dado o scazi il tiro del dado e ci sta che ti prendi due schiaffi o viceversa fai un bel tiro e riesci a fare un colpo fortunato e questo secondo me è la parte proprio divertente del gioco American al di là poi dell'ambientazione insomma Io Angelo la pensavo come te fino a dieci minuti fa adesso mi sono trasferito sull'altra sponda e vorrei convincerti venire con noi Sei un traditore però guarda qualche cubettino di legno ogni tanto non lo disdegno nemmeno io anche perché poi li uso per la stufa pellet per cui è il caso li riciclo Rosenberg non è contento infatti Vanes dice il mio sogno è un grande fratello in ludoteca vedi vedi infatti quello che manca sono anche i famosi influencer insomma quelli che in questo momento stanno regnando sovrani sul web dove appunto c'è gente che vive guardando persone che si fanno ore e ore di fortnite e se qualcuno di questi o anche non so faccio porca miseria come cavolo si chiama la moglie di Fedez la Ferragni la Ferragni se la Ferragni facesse una bella fotografia che dice io gioco ad agricola o io gioco ad outlive ecco che il gioco da tavolo impenna purtroppo siamo in mano a questa gente qua e quindi bisogna convincere loro a farci un po' di pubblicità questo potrebbe essere un buon modo detto questo qua siamo arrivati a 36 minuti possiamo anche già passare saluti io volevo dire una cosa che conosco un influencer molto valido tra Bologna e Modena che gestisce una sorta ludoteca che si chiama il pub delle fate se vi capita di guardare e detto questo io sono un po' stanco di stare qui con voi quindi io vi saluto in anticipo e continuo a godermi la mia nuova dimensione da germanista sempre la rocca malaticcia ha fatto esattamente il germanista ovvero ha fatto il prezioso e se ne è andato lasciandosi praticamente in convenza dei saluti no ma secondo me torna dai secondo me torna stavo cercando di leggere i commenti perché poi ce ne sono alcuni divertenti tipo un real tournament è il migliore come gioco da tavolo è bellissimo vabbè ah qua dice che Simone fantusti ha fatto un grande fratello ludico il Savio con ma c'erano anche le telecamere proprio fisse 24 ore su 24 perché si lo so che a volte qualcuno si è chiuso in casa e ha fatto delle delle notti e passa giocando però le telecamere ci vogliono io comunque conosco tantissime persone che giocano ai giochi da tavolo e qui a Rom ci sono parecchi locali o pub adibiti al gioco però resta il fatto che resta una realtà sempre un po' di nicchia e infatti ma il problema secondo me caro Emanuele che in questa nicchia alcuni giocatori ci sguazzano perché si sentono grandi in questo piccolo mondo che se dopo diventa troppo grande e diceva cazzo non sono più il re di questo di questo piccolo mondo è un po' come uno che un italiano che sa il cinese e quindi io sto al cinese e con quei pochi ci parla e gli altri non capiscono cazzo c'è anche un po' questo atteggiamento snob ho notato da alcuni da alcuni player sei d'accordo con me Angelo? tu sei uno di quelli ogni volta che ti parla sì sì chiaramente essendo uno youtuber blogger ormai comincio a snobbare tutti quanti e di conseguenza fate come vi pare a parte i scherzi comunque è vero la realtà io anche qui sto qui a Roma ci vivo e ho visto che ci sono locali dove si gioca però obiettivamente poi alla fine è molto frammentato il mondo dei giochi da tavolo per cui difficile riuscire a trovare anche un gruppo una comitiva giusta dove c'è un'intesa anche al di là del gusto ludico perché chi gli piace una cosa chi gli piace un'altra chi quello non lo vuole fa chi quell'altro non lo vuole fa per cui non è facile trovare un bel gruppo con cui fare sinergia e avere lo stesso gusto nei giochi poi alla fine per cui diciamo si creano poi le nicchie delle nicchie delle nicchie perché poi ognuno ha il suo sostile l'analisi di Luca oggi i giochi di tavolo sono paragonabili ai cartoni animati trent'anni fa tutti guardavano Bim Bum Bam oltre a due o tre canali conoscevamo tutti quei dieci quindici cartoni che sono rimasti ancora oggi sempre in quegli anni tutti conoscevano quei dieci quindici giochi da tavolo oggi abbiamo centinaia di canali con centinaia di cartoni e ne emergono due o tre idem con i giochi da tavolo ne escono decine e ne emergono due o tre sì è verissimo però ciò nonostante è un binario che corre parallelo a tutta una serie di realtà che la gente ignora quindi ci sarebbero tanti possibili giocatori secondo me che non si avvicinano ma proprio perché non conoscono il gioco moderno si fermano lì al al monopoli perché hanno ovviamente sono stati investiti solo da quello dai quante volte vi è capitato magari con persone che conoscete ma che non sanno della vostra passione a me capita spessissimo che vi dicono ah vabbè io gioco con i giochi da tavolo e tutti ti dicono ah ma che risico monopoli poi vaglielo a spiegare che sei un german o un american o qualsiasi altra cosa per cui è complicato è complicato spiegare a gente che fai a giochi da tavolo e molte volte e molte volte fuggono perché poi uno gli spara i paroloni comincia a parlare di appunto sei american sei german ma perché non fai un gioco con un draft e tutte le terminologie non parlano di fortuna parlano di alia di tutte queste terminologie che conoscono solo i giocatori e ci sguazzano in questa terminologia appunto e vabbè vabbè comunque siamo arrivati ai 40 minuti a me dispiace non poter salutare Dennis cosa facciamo ci congediamo così salutiamo tutti senza che lui saluti no è sparito ha fatto ha fatto il germanista e ci ha ci ha lasciato così in sospeso va bene Dennis se non torni peggio per te noi stiamo per oh ragazzi stasera puntata quasi seria è quasi seria vogliamo sempre fare gli asini andare a raglio e poi alla fine ce l'abbiamo un po' nel cuore questa cosa qua comunque anche la volta scorsa abbiamo parlato di serie tv e ci abbiamo buttato dentro qualcosa di serio dai va bene l'argomento prestava prestava anche alla battuta ovviamente prestava anche allo sfotto però comunque è un argomento che è molto sentito dai giocatori attenzione c'è Dennis che ci pensa a a stramatizzare tutto e a rendere poco serioso tutto il resto del programma con i suoi video da Rocca Malaticcia e mamma mia non so se dove l'ha trovato Rocca Malaticcia ma esiste davvero? va bene chiudiamo con questa battuta il monolito di Kubrick è molto german va bene ragazzuoli grazie di esservi collegati noi vi salutiamo Dennis vi portiamo noi i saluti di Dennis sulla fiducia vi saluto ciao Angelo ci vediamo ciao che probabilmente probabilmente sarà domenica sera se non erro non più lunedì detto questo niente grazie di esserti con noi spero che vi sia piaciuta questa puntata se l'abbiate trovata interessante vabbè leggo l'ultimo messaggio poi basta basta mandare messaggi ci vuole anche tempo per dedicarci avvicinare un impegno sembra comprendere il gioco della regola oggi non esiste più la pazienza detto questo vado ad ascoltarmi ginecologi in cuffia ottimo ottimo grande Luca arrivederci a tutti vi lasciamo con la solita sigla grazie ragazzi grazie a tutti ciao e non vuol partire vabbè niente la sigla non parte fate come finta che ci sia ciao buonanotte ciao ragazzi grazie buonanotte a tutti ciao